La mortificazione della tutela della salute dei molisani è ormai una costante. Non c'è giorno che non si registra un ritardo, un attacco, una dismissione. Azioni che non solo contraddicono i dettami costituzionali, ma cancellano di fatto tutte le promesse elettorali, gli annunci, i patti sottoscritti nei programmi e mai veramente rispettati. Un esempio di questo percorso è quello costituito dalle parole che usa il consigliere comunale di Venafro Stefano Buono quando afferma che la sottrazione al trattamento medico del 118, la cosiddetta de-medicalizzazione, non è che l'ultima azione in ordine di tempo di un'opera progressiva di smantellamento inesorabile della sanità pubblica nella nostra regione. Un pensiero che dovrebbe essere condiviso da tutti a partire da chi amministra i territori, i cui abitanti patiscono le pene di una lontananza abissale dal più concreto servizio di cura, una disattenzione gigantesca ai bisogni delle persone, tutte storie che producono sconforto e cancellano ogni consapevolezza di futuro nelle famiglie. Ovunque si percepisce il degrado e l'incuria, ma anche, cosa assai grave, il silenzio di chi si è posto alla rappresentanza e disdegna ogni azione di lotta, lasciando che le strategie a perdere, i servizi, si compiano e si arrivi davvero stavolta alla negazione totale di una esistenza quantomeno serena. Il consigliere Venafrano sottolinea proprio il silenzio, l'assenza di chi siede sui banchi delle istituzioni, a partire da quelli della regione e per arrivare alle amministrazioni comunali. Dobbiamo avere, scrive Stefano Buono, l'ambizione di scrivere un piano sanitario che torni ad investire sul pubblico, chiedendo le giuste risorse a Roma e utilizzandole in modo efficace ed efficiente, partendo dal reale fabbisogno sanitario, assicurando la rete di emergenza urgenza, utilizzando al meglio la medicina territoriale, investendo sugli ospedali che da Venafro a Termoli un tempo rappresentavano un'eccellenza. Facevano mobilità attiva, attraendo pazienti da fuori regione, chiudevano bilanci inattivi e sono ancora, nonostante le scelte scelerate e attuate strutturalmente idonee e funzionali.